Musica Alle mie spalle c'è un Pinocchio Si, Pinocchio tecnologico, qui ritorniamo lì questo è una specie di robot che non ha niente a che fare con la favola di Pinocchio ma è un robot, Pinocchio insomma come marionetta eccetera che vuol dire che noi non dobbiamo essere Pinocchio A me il Pinocchio rispira insomma ricordi del passato quindi mi fa ritornare in mente i bambini prima i bambini erano abituati a giocare con giochi costruiti in legno oggi non più E perché non li fanno più? Ma secondo lei il bambino è ancora attratto dal legno? Ma si, io penso che è attratto difatti io vedo che sono molto affascinati i ragazzini quando passano vedono tutto il mondo molto nel mio mondo qua sono molto attratti, molto affascinati solo che poi i mercati oramai fanno altri giochi, altre cose anche il Pinocchio che è anche lui una marionetta, un gioco eccetera per dire che questo non è un gioco però di legno ha questa vicinanza secondo me che si ama di più toccare eccetera insomma Le sue opere sono molto particolari richiedono una locazione particolare in casa, hanno bisogno di case particolari o le possono mettere in qualsiasi tipo di casa? No, le cose mie possono stare dappertutto stanno in aziende, stanno in case poi molte molte stanno nelle case ma non è detto che ci sia uno spazio particolare se uno ama la mia opera la mette pure al bagno lui mi diceva ma com'è il bagno? uno vive il bagno se ne mette il bagno è una scelta un po' chic insomma No, no, l'opera d'arte la mette dove vuole non è che deve andare perché uno ha l'allenamento del 500 o 600 può stare, Pinocchio mio può stare benissimo collocato in un ambito del 600 lo metti seduto nel trono eccetera in quanto la persona ama quell'opera lì insomma ce la gode Un'altra anche delle sue opere più famose e importanti è il cavallo Il cavallo lo ho rappresentato molte volte anche in piccole forme eccetera perché per me rappresenta l'energia, la forza, la potenza eccetera e ultimamente ne ho fatto uno di 3 metri per 3 che in questo caso è tecnologico, telematico, armato perché qui siamo sempre in guerra e ha una sua lettura infatti spesso le persone che non chiedono più le cose dicono sei il cavallo di Troia ma non c'entra niente questo è il cavallo del futuro insomma in pratica Dove è esposto? Beh adesso questo sta in un autosalone della Carpoint all'Eur Quello che mi incuriosisce anche sono queste insegne la può commentare per cortesia? Vabbè il fatto delle insegne che poi lei anche qua nel centro storico le vedrà un po' in un sacco di posti qua perché il centro storico è pieno di queste mie cose io chiamo allargamento dello studio però è un fatto divertente e utile il fatto delle insegne e anche qua abbiamo questo gioco questo è un totem il totem delle informazioni in pratica il totem delle direzioni e poi l'indicazione secondo me è un momento in cui abbiamo oggi il telematico e tutta questa roba secondo me la freccia è sempre quella più diretta invece lei tutte le cartine, le cose, i computer vede la freccia, dice piazza Navona e vai trovata è vero assolutamente sì e vedo anche vicino alla scultura una bandiera che rappresenta l'Italia in altra sua scultura è l'Italia che naturalmente per motivi di spazio non è qui presente non sta qua, da un'altra parte sì sì ho fatto questa perché ha realizzato quell'opera l'Italia? beh io praticamente adesso abbiamo festeggiato l'Unione l'Unione 150 anni eccetera però io l'avevo già fatta prima questo pensiero l'ho sempre avuto perciò l'avevo già realizzata infatti l'abbiamo esposta alla mostra di Palazzo Valentini la particolarità è che appunto ogni regione è rappresentata da un suo simbolo ci sono tanti monumenti, cose però insomma lì ce n'è uno che rappresenta un po' tutto poi c'è un altro particolare per esempio il legno me lo mandano da Val di Fiemme ed è un signore che me lo manda da tanti anni però è una cosa curiosa che noi non ci siamo mai visti di persona ci vogliamo bene per telefono eccetera mi manda il legno mi manda la prima scelta quello molto buono pure stagionato e tutto mi chiama Giorgio dell'Antonio siamo sentiti questi giorni che mi manderà altro legno maestro le sue opere sono andate anche all'estero lei le ha seguite o è rimasto qui ad aspettare che vi entrassero? no io non seguo nessuno io ho fatto molte cose ma non mi muovo mai quindi solo le opere si spostano? si spostano le opere ho fatto anche una bella mostra a Tokyo c'è un'opera anche alla Banca d'Italia di New York insomma no però non ci vado mai ma non perché io non mi vado di viaggiare perché io ho scelto di scolpire secondo me diventa un viaggiatore e allora è più tempo dedicato a questo e poi l'informazione dice uno va qualsiasi cosa si può acquisire anche stando fermi abbiamo libri abbiamo fotografie abbiamo documentari insomma qualcuno che va in Amazzonia io per vedere come sono gli alberi insomma io se voglio con la fantasia la pianta che sta qui da fuori diventa tutto quello che voglio insomma una delle sue ultime esposizioni è stata realizzata dalla provincia di Roma si è ospite uno insomma dei visitatori è stato anche un altro grande maestro Morricone si due maestri che sensazione si prova? no la sensazione è stata molto bella perché a parte che il maestro lo conosco lo stimo e siamo amici insomma ci incontriamo molto spesso è stato molto carino anche lui quando l'hanno intervistato lì su di me insomma e anche lui a parte che c'è anche lui in opere mie eccetera però voglio dire lui ha ritrovato così ha detto nell'intervista che ogni artista ha i suoi simboli che poi dispone poi nelle varie opere insomma oppure nella musica è la stessa cosa insomma poi dipende da quello che uno rappresenta entrando ho notato una sua foto con la sua santità in che occasione lo ha conosciuto? la sua santità l'ho conosciuto all'epoca non so se era 86 87 perché c'è stato io ho creato una cometa di Alli di 5 metri e c'è stato a Roma il convegno sulla cometa di Alli perciò è stata questa opera esposta all'università di Roma che è stato un convegno mondiale con tutti gli astrofici del mondo e poi anche siccome anche il Vaticano concorre a queste a queste ricerche diciamo eccetera e allora anche in Vaticano è stato fatto questo grande incontro poi è stata portata un'opera una cometa più piccola che è stata donata a sua santità a nome di tutti gli astrofici del mondo l'abbiamo riesposta al palazzo Valentini il palazzo Valentini è stata una mostra molto importante voluta dalla provincia di Roma dal presidente Zingaretti e dalla fondazione Roma dal professor Emanuele Emanuele e soprattutto stimano tutti e due hanno fatto delle belle prefazioni insomma una bella cosa è stata molto visitata anche perché il palazzo merita altra invece foto che mi ha colpito con madre Teresa di Calcutta madre Teresa di Calcutta io ho avuto anche qua l'emozione di incontrarla due volte perché l'ho incontrato una volta in Rai che c'era una trasmissione sulla fame nel mondo e perciò c'erano ministri e c'era anche lì delle mie opere in quel caso lì ho donato una mia maternità che sarebbe questa maternità e poi una seconda volta c'era un'associazione che facevano un premio Donna d'Europa che io facevo una Dea Iside perché veniva data a delle signore importanti ogni anno non so si è data a Nilde Jotti a Susanna Agnelli oppure altri personaggi siccome lei è una religione se poteva dare una Iside e abbiamo dato un'arca e in quel caso lì appunto abbiamo donato l'arca e lei è stata molto contenta dice così metterò sopra i miei poverelli Maestro con il legno si può parlare? Ma io penso sì insomma il legno è un modo di parlare di raccontare di comunicare tant'è vero che quando viene anche uno straniero qua non vuole che so la lingua io basta che questa persona vede le opere la comunicazione è questa insomma e se no io parlo l'inglese ma quello parla cinese stiamo sempre lì insomma non è che parlando una lingua due infatti che io sono sempre stato allergico alle lingue allora però ho cercato sempre di comunicare tramite il legno ci si capisce difatti ritornando a un aneddoto poi aneddoti sono tanti quando abbiamo fatto una cena con tutti gli astrofigi del mondo lì a un tavolo c'era il cinese il giapponese l'usso eccetera c'è stato poi io insomma io so parlare italiano dice come faceva a comunicare io avevo un blocco nottes e facevo dei disegni perciò disegnando comunicavo perciò anche quello è un modo di parlare insomma un modo di comunicare certo la comunicazione io ho fatto a proposito di mani ho fatto una mano di 6 metri nel 75 adesso non c'è qua un poster là sopra che rappresentava la comunicazione e anche qui avevamo il palmo della mano che aveva tutte le simbologie che era sempre ritorniamo al cervello poi c'era l'occhio che rappresenta televisione cinema fotografia poi il cervello la parte cerebrale rotativa perciò la parte diciamo il palmo che era la testa erano tutti i simboli e la mano la manualità e ha rappresentato la comunicazione appunto festa in quell'epoca lì insomma quell'anno là a proposito di testa mi viene in mente la medusa un'altra delle sue opere sì quindi questa medusa che è ingabbiata però che con i suoi tentacoli è scena ma quella può rappresentare tante cose quella sì appunto potrebbe rappresentare il male a un certo punto però la gabbia vedi i tentacoli escono perciò non si ferma mai insomma una sorta di cosa diabolica quindi male potere insomma tutte queste robe qua insomma messe assieme insomma in questo momento sta realizzando qualcos'altro? no ultimamente ho fatto una bella scultura per la CEA l'ultima opera per la CEA di Roma ho fatto un tot ma anche in questo caso siccome loro hanno fatto i cento anni della CEA e allora c'è questo tot di due metri e mezzo anche qua pieno di tutte simbologie che raccontano un po' la storia dell'azienda insomma perciò luce acqua tutti questi elementi gas eccetera poi i simboli di Roma il sole ritorniamo la luna le cose il simbolo e questa è una delle ultime cose poi tante cose piccole faccio insomma ci sono in previsione altre esposizioni? no adesso no si se ne parla poi alla fine insomma poi alla fine è possibile pure insomma maestro la ringrazio per la sua disponibilità vogliamo salutare gli amici? si si io faccio un caro saluto a tutti se qualcuno vuole venire a trovarmi allo studio o qualche mostra che si farà insomma no a a